Oggi non è giorno di polemiche, io personalmente sono qua solo per un motivo ed è semplicemente di stare vicino ai parenti delle vittime, non ho altre stanze oggi, ma da domani continueranno il mio impegno perché questo paese merita infrastrutture più adeguate, non ci sono grandi infrastrutture, piccole infrastrutture, forse se non ci perdessimo a volte in sterile polemiche sarebbe anche certamente meglio. C'è la necessità di tutti insieme fare uno sforzo perché muoversi è fondamentale perché le grandi città sono aggiunte dai pendolari da chi trova nelle città un'occasione di lavoro e di socialità in varie forme, però il trasporto sull'oltaia deve essere, deve rimanere più sicuro, deve essere preferito, è il più ecologico, è il segno dello sviluppo di questo territorio, di questo paese e quindi credo che da questo punto di vista molto ancora ci sia da fare. Ripeto, insieme ci sono tante cose su cui la politica si deve dividere e tante altre su cui non si può dividere. In particolare, e concludo, riprendiamo veramente l'appello del rappresentante dell'Associazione dei Pendolari e stanno chiedendo cose estremamente semplici nell'intento, magari non semplicissime da realizzare, ma è esattamente quello che chi fa politica ha il dovere da fare.